Ragazzi dei licei? No, queste cose purtroppo incominciano ad andare fin dalle scuole, dai tre anni in avanti, mi sono fatto scuola nei licei, sono dedicati proprio ai bambini per, dico io, fare violenza sui bambini attraverso queste immagini e questo sviamento, una nota teoria del gender, cioè che non ci sarebbero uomini e donne in orientamenti gessuali, ma tutto sarebbe indifferente e intercambiabile, ma non solo, anche i genitori, se i miei nipotini in un asino nido o in una scuola dell'infanzio all'elementare gli mettono in mano quegli oposcogli lì, giustamente i genitori devono indignarsi, rivoltarsi rispetto a questa violenza fatta nei confronti dei bambini.